Alex partita dominata contro i campioni 12 a 0 veramente non c'è nulla da dire Parma che però ha giocato bene sin dall'inizio benissimo anche in difesa grande Sanchez poi finalmente il box sembra proprio che questo line up si è sbloccato in un certo senso un attimo, piano piano no dai è andata bene abbiamo battuto bene siamo stati aggressivi nel box abbiamo pescato poco i lanci del lanciatore siamo andati lì a prendere il nostro lancio abbiamo giocato molto bene in difesa stiamo giocando bene in attacco ci stiamo riprendendo è stata una bella partita Loro hanno fatto questo gioco che ovviamente si può fare proporvi l'italiano contro il lanciatore straniero era forse ovvio che fossimo favoriti noi ma insomma un punteggio così dopo quattro inning manifesto di inferiorità forse nessuno se lo poteva aspettare Sì, siamo stati infortunati in alcune occasioni qualche valida fortunosa però come ho detto siamo stati aggressivi abbiamo cercato il nostro lancio quindi è andata bene così Domani è più complicato? Partì Loro e Lo Straniero che questa guerra che insomma sembra molto in palla contro il nostro pretele italiano che per ora è quella con cui sembra che abbiamo un pochino più di difficoltà Sì, la guerra come mi hanno detto ha fatto 30 e passa a cappa quindi sta lanciando bene tira forte però noi non dobbiamo guardare chi è sul monte noi dobbiamo andare lì girare il bastone sul nostro lancio e basta non possiamo pensare a chi è sul monte eccetera i nostri avversari sono in campo quindi andiamo lì cerchiamo di vincere Mi sei sembrato anche più paziente tu e gli altri sui lanci quindi anche questo forse ha fatto la differenza Sì, l'errore principale dell'inizio stagione è sempre voler far troppo cioè cercare il risultato invece che un buon contatto Questa settimana abbiamo lavorato bene con Pepita con lo staff con ieri quindi speriamo che ci siamo bloccati Buonvenuti e buonanotte